buongiorno benvenuti in questo nuovo video che non è un vlogmas è un video normale e perché non farò vlogmas perché sinceramente è pieno il web e quindi io farò dei video saltuariamente penso molto probabilmente durante il fine settimana maggiormente vi voglio far vedere in questo video le decorazioni che ho fatto per natale una la state vedendo dietro di me che è il mio angolino preferito nel mio angolino preferito e adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio allora ecco qua questo è il mio angolino preferito partiamo innanzitutto dai regalini sotto che ci sono che già ho preparato dopodiché c'è l'albero l'albero quest'anno io l'ho voluto fare sui toni del rosso e dell'oro con le luci calde non so perché ma mi danno più un'atmosfera natalizia come potete vedere ci sono diverse palline ci sono anche questi che io ho preso all'euro spin che vi avevo fatto vedere in uno svuota la spesa sono riuscita a trovare questi che sono gli schiaccianoci piccolini da appendere ce ne sono quattro queste sono delle palline in vetro che avevo dagli altri anni insomma un po di cosine anche questi qua mi piacciono tantissimo questi legno li regalava mia madre ai bambini li ha regalati lei e niente questo è il mio albero un metro e venti di albero con il puntale a stella e mi piace tantissimo vedete ho messo delle cose un po particolari perché sinceramente l'albero solo con le palline non mi piace tantissimo quindi ho voluto mettere anche le rennine in legno carinissime poi che altro vi posso far vedere di particolare a questa che è fatta con il decoupage che me l'hanno regalata in passato insomma un po di cosine del genere poi passiamo dietro all'albero questo è proprio l'angoli questo è l'angolino natalizio che ho voluto creare io quest'anno non ho voluto addobbare tutta casa proprio tutta 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 perché mi sembrava troppo quest'anno il senso che voglio dare al natale è più che altro il senso di famiglia più che di tutto il resto qui potete notare i miei due babbetti questi qui li ho presi all'ikea e vi ho fatto anche un video haul quando mi sono arrivati quindi così e questo qui invece ragazzi questo qui ecco a me dall'età di un anno quindi sono praticamente 34 anni che sta con me ed è il babbo natale che mi era stato regalato quando ero piccola che avevo appunto il mio primo natale che avevo quasi un anno e continua a stare con me e questa invece è una creazione di mio marito quando ancora scolpiva la pietra adesso non ha più tempo ed è un lepre però mi piaceva perché fa arredamento insomma quindi va bene così qui abbiamo il camino con le quattro calze della kinder tra tutte le calze che ho queste sono quelle che mi piacciono di più perché sono proprio tipicamente natalizie ne sono appunto quattro e sopra scusate il fiatone sopra il camino invece ho voluto mettere questa scritta Christmas con la candela bianca con le stelle queste palline che in realtà erano palline che andavano nell'albero io ho voluto metterle in questo modo e dei fiori natalizi anche con le melucce e lì invece c'è un'altra scultura sempre di mio marito e questo è un puzzle che stava sopra attaccato sopra che ho messo ho posizionato qui e l'ho voluto tenere perché è molto bello mi piace tantissimo con questo skyline così in bianco e nero ci stava bene sopra invece ho messo la ghirlanda come vi avevo detto non sapevo se l'avrei messa alla porta o meno l'ho messa sopra il camino e devo dire che ci sta molto 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 bene molto molto bene qui di fianco abbiamo un ramo di vischio con la campanella insomma così e qui la befanina anche questa della kinder che la metto sempre perché comunque deve passare anche la befana dopodiché vi faccio vedere di nuovo tutto quanto tutto quanto in grande eccolo qua questo è il mio angolino che ho ricreato mi piace tantissimo ho invece messo questo runner che in realtà non è natalizio però mi piace tantissimo perché è rosso con queste palline e ci ho messo questo vaso con queste stelle finte sia oro che rosso proprio perché le decorazioni in generale dentro casa quest'anno sono tutte sull'oro e sul rosso e poi questa questa qui è la famosissima candela natalizia di Ikea a forma di mela e ci sta benissimo qui questa è una decorazione semplicissima sono venuta a rimanere sul semplice allora questa è la parte invece dove ci sono i divani questi divani sono nuovi sono di poltrone e sofà abbiamo approfittato di quando c'è stata una promozione del 25% più altrettanto 25% spank non ci provare per prenderli sono due divani uno a due posti uno a tre posti letto e un puff che io ho debitamente già riempito con cuscini e coperte ed è color carta da zucchero sfoderabile in tessuto molto molto belli molto molto comodi si vede la qualità e poi dicessi mio marito rendono comunque la sala particolarmente elegante comunque tornando a noi sui divani ho voluto mettere dei cuscini anche questi un po' sullo stile natalizio o meno e qui invece nel tavolinetto questo qui di Ikea che è sempre stato qui ho voluto mettere a parte il libro di Breaking Dawn ho voluto mettere questo centrotavola fatto con delle pignette che avevo e appunto questo qui che è in coccio è praticamente un portacandela che però io ho lasciato così e mi piace tantissimo elegantissimo delicato ci metterò qualche cioccolatino poi quando arriverà il momento sotto la tv ho voluto mettere qualcosina non troppe cose perché comunque abbiamo qui il sensore della tv se non diventa un macello e qui sotto c'è l'Xbox quindi non c'era tantissimo spazio allora qui questa non c'entra niente è la mia agenda allora qui abbiamo questo qui che è un diciamo una sorta di skyline natalizio che avevo già e questa invece è una novità questa qui è praticamente una scatola carillon regalo della Stenom che sta tra i regali di Natale di Stenom ed è appunto proprio un vero e proprio carillon perché se voi lo girate vedete molto molto carino è anche un carinissimo regalo per chi ha dei bambini secondo me poi anche il tipo di di disegno che c'è è molto molto carino poi qui invece proprio sotto la tv ho voluto ricreare questo mini 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 villaggio di Natale con appunto le tre casette che avevo preso all'Ikea più due abeti presi dal cinese che sono praticamente quelli che vanno nel presepe e l'ho presi un paio in più per metterli qui qui c'è un'altra casettina questa qui in realtà ci andrebbe dentro la candelina ma lo voglio lasciare così qui sotto invece ho voluto mettere a parte le foto della recita di Natale di quando andavano alla materna tutti e due insieme ora era l'ultimo anno Alessandro al primo anno che si è messo a cantare al microfono l'unico bambino vabbè poi qui ci sono due pallette di Natale una col presepe e una con Babbo Natale e qui c'è questo peluche che me l'aveva regalato il mio ex fidanzato che canta e balla quindi ai bambini piace tantissimo ancora funziona e ancora sta in buonissime condizioni quindi l'ho voluto tenere lo metto qui perché ogni tanto Alessandro va là pigia e suona qui sulla madia invece potete vedere c'è pochissima roba allora qui questo qui l'ho voluto mettere perché mi piaceva tantissimo è praticamente la la macchina di Babbo Natale l'ho voluta appendere qua troppo troppo carina e qui sopra la madia invece ho voluto mettere come vi dicevo i miei due schiaccianoci i miei primi due schiaccianoci che ho preso più questo vasettino che anche questo è stato fatto con il decoupage e ci sono appunto ci ho messo questi fiori finti tutte le pigne eccetera e poi appunto questo schiaccianoci qui e quest'altro schiaccianoci qui come vi avevo accennato ho messo qui sulla porta questo qui che è il vischio quello lì di Ikea che vi ho fatto vedere sempre nel video haul e poi questi due che sono due quadretti che in teoria si illuminano però non ho le pile e quindi non ce l'ho messe però in teoria si dovrebbero illuminare e questi anche li ho presi con stenom questo qui che rappresenta proprio un villaggio di Natale con la neve e questo invece che è un po' più sui toni del bianco con la lanterna eccetera e anche questi fanno un pochino arredamento poi sopra le porte ho messo questi allora questo qui è sopra la nostra porta della camera da letto non mi ricordo neanche dove l'ho preso forse l'aveva preso mia madre non so sopra la porta di Alessandro c'è questo e sopra la porta di sopra la porta di Aurora invece c'è quest'altro che sono praticamente due ghirlande fatte a mano prese al mercatino di Natale quando si potevano fare i mercatini di Natale e niente questo è quanto questo è tutta la decorazione che praticamente io ho fatto dentro casa manca il presepe però lo faremo in questi giorni di ponte perché oggi appunto è il 5 e martedì è 8 fanno ponte a scuola quindi sicuramente faremo il presepe così appunto vi faccio vedere anche quello e niente detto ciò ci vediamo dopo ragazze è arrivato adesso il corriere mi ha lasciato il mio regalo di Natale che in realtà non è il regalo di Natale che mi sono autofatta ma è il regalo di Natale che mi ha fatto mio marito e adesso spacchettiamo oddio io già lo so che cos'è però vi voglio far vedere anche a voi che cos'è siete pronte 3 2 1 tadaaa oh mio addio allora mio marito lavorando in forwerk folletto però non bimbi e comunque conosce poi ci sono io qui conosce anche rappresentanti bimbi e mi ha voluto fare questo regalo cioè voluto diciamo che l'ho ben istradato però mi ha fatto questo regalo per Natale ovvero il TM6 che è quello ragazzi con lo schermo cioè io veramente è un UFO è gigantesco è gigantesco e qui ci sono tutti gli accessori adesso devo capire come funziona questa roba in lui mi ha preso l'offerta che c'era anche il termomix che è praticamente questa che è una pirofila pesantissima devo dire infatti sono anche preoccupata che l'ho messa in quest'angolino proprio e poi c'erano a parte questo che sono delle ricette di Natale che io ovviamente farò immediatamente anche i due ricettari questo qui e questo che sono praticamente due ricettari appunto con tutte varie ricette e calcolate che io qui sopra questa mensola sopra questa mensola ci sono tutti libri di cucina quindi questi avranno un posto speciale in prima fila e adesso io devo capire dove mettere questo bambino appena arrivato mamma mia ragazzi voi non potete capire che vuol dire per me avere il bimbi allora io sono io amo cucinare amo cucinare però vi assicuro che c'è una mia amica che ce l'ha e ci si mette pochissimo per 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 fare le cose con il bimbi quindi io l'ho sempre voluto l'ho sempre voluto però c'ha un prezzo ragazzi aveva un prezzo esagerato e invece mio marito è riuscito ad avere un'offerta e eccolo qui il nostro nuovo bimbo ora devo trovargli uno spazio in cucina cioè raga so felicissima cioè questo è il regalo di mio marito evviva vado subito a preparare tutto quanto lo spazio così almeno lo metto lo metto e poi devo anche studiarmelo cioè bellissimo perché oggi è l'8 di dicembre la festa dell'immacolata quindi buona immacolata finalmente dopo tre giorni riusciamo a fare questo benedetto presepe il problema è stata la pioggia perché la carpiccia praticamente era tutta bagnata ha piovuto sempre e quindi non potevamo farla Samuele non poteva farla però alla fine ci siamo riusciti e questo è il nostro presepe fatto vabbè a parte la carpiccia che è quella vera poi abbiamo fatto cioè abbiamo fatto hanno fatto perché ha fatto mio marito con tremendino qua hanno architettato tutto loro quindi io non c'entro assolutamente nulla avremmo pure fatto la grottina hanno fatto la grottina per le pecorelle qui abbiamo messo un'altra specie di capanna per tutti questi che lavorano il fiume con le paperelle eccetera il pozzo lassù ci sono altri che lavorano laggiù in lontananza c'è il villaggio con i i remaggi e qui con un pezzo di corteccia abbiamo ricreato la grotta con del bambino Gesù che ovviamente ancora non c'è perché lo metteremo il 24 e qui i pastorelli che suonano e niente questo è quanto io spero che vi piaccia questo è veramente l'ultimo step dopodiché adesso si aspetta il Natale quindi vi salutiamo e ciao ciao lei giustamente tutto il giorno che è in pigiama vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video bye bye ciao